Avete mai viaggiato? Se l'avete fatto sicuramente almeno una volta avrete preso un souvenir, che sia un magnete o una cartolina. Vi dirò però che ci sono alcuni souvenir che avete di sicuro mancato, anzi meglio se non li avete mai visti, perché sono alquanto inquietanti, strani e beh lo vedrete. Ciao a tutti intanto dal vostro top tenner di quartiere in un'altra classifica piena di bizzarri e fuori dal comune. Se siete seduti o sdraiati o che ne so seduraiati partiamo. Serpenti? Il Brasile è un posto molto particolare, ci sono tante cose da fare e da vedere, tra lussuose città e zone molto povere. Un po' come alcuni paesi asiatici, almeno una volta nella vita penso sia obbligatorio il viaggio perché esistono anche tanti oggetti particolari da acquistare, come souvenir fuori dal comune. Ne potete trovare di ogni genere e tanti anche a tema animale, come questo. Una donna l'ha fotografato in un negozio di souvenir in una zona di mercato molto affollata e piena di altre stramberie. Non capisco bene cosa sia. Una tenda o un tessuto strano? Non mi interessa sinceramente, preferirei evitare di comprare ste cose. Tuttu Kibako? Se siete andati almeno una volta in Giappone avrete preso i soliti souvenir tipo figure oppure portachiavi pucciosi di Totoro, ma sappiamo benissimo che in quel paese ci sono molte stramberie molto strane, come il Tuttu Kibako. Non è strano in modo brutto o cattivo, ma rientra a mio parere nella classifica. Ciò che si fa con la scatola è semplice, inserire il dito e nient'altro, in un buco di circa 6 cm. Dopodiché il Tuttu Kibako lo renderizzerà velocemente trasmettendolo a schermo in modo pixeloso, così potrete scegliere uno dei 5 mini giochi presenti. In tutti dovrete semplicemente toccare delle cose virtuali. Nulla di troppo complesso, è stato prodotto solo in Giappone a circa 30 euro, quindi se passate di lì e li portate da noi potreste anche rivenderli a un buon prezzo. Insomma, a chi non piace infilare le dita in buchi piccoli? Hmm, strana frase. Bambole troll Il troll, nella mitologia scandinava, è una creatura umanoide che vive nelle foreste dell'Europa settentrionale. Tra le caratteristiche più importanti abbiamo il fatto che sia malvagio e si muove per lo più di notte, visto che con il sole si pietrifica. Per riuscire a rappresentare bene un troll, quindi in Scandinavia vendono certe bambole. Se volete farvi venire dei bellissimi incubi la notte è l'acquisto perfetto. Potete pure regalarli per far sapere quanto volete del male a qualcuno. Anzi, no, nemmeno al mio peggior nemico darei certe cose. Cacca di elefante Per riuscire a fare veramente un regalo di merda, preso da un altro paese per i vostri parenti e amici, vi consiglio la bellissima cacca di elefante. Lo zoo di Praga, per attirare i visitatori e aumentare i guadagni che diventano sempre più magri, ha pensato di vendere la cacca di elefante appunto. Tutto questo è possibile perché hanno tre elefanti che mangiano, beh, come elefanti. Hanno un buon raccolto di circa 180 kg al giorno. La cosa che vi sorprenderà di più è che alcune persone comprano veramente questa roba asciutta e essiccata. E che dire, andiamo avanti prima che mi venga davvero il vomito. Caffè di elefante Ma fermi tutti, per il bene di YouTube ho deciso di resistere ancora un attimo e parlarvi del caffè di elefante. No, tranquilli, non viene ucciso nessuno di questi animali straordinari, il processo è semplice e disgustoso. Nel villaggio rurale di Bantaklang nel Surin, in Thailandia, viene prodotto il caffè più costoso al mondo. 80 dollari a tazzina, esatto. E sapete come si fa. Facendo ingerire agli elefanti i chicchi di caffè presi a 1500 metri di altitudine, in una piantagione molto famosa del posto. Questi poi defecano il tutto, e i raccoglitori di escrementi si mettono all'opera per prenderli tutti. Forse il lavoro peggiore del mondo. Se siete interessati a portarvi a casa un souvenir del genere, dovrete sborsare un bel po' di soldi. Si chiama Black Ivory questo caffè e soltanto 15 capsule per la Nespresso superano i 200 euro. Acqua dagli abissi. C'è chi compra cacche di elefante, chi bambole di trolle e chi si accontenta di acqua. Se siete di passaggio nelle Hawaii non potete non approfittare dell'incredibile acqua degli abissi, in vendita sul posto. Introvabile da altre parti. A quanto pare ha capacità pure curative e si può bere. Viene estratta a 3000 metri di profondità in una zona dove è più calda e pura, secondo i locali. Si chiama Mahalo Deep Sea Drinking Water. Una sola bottiglietta viene circa 40 dollari. Lecca lecca scorpioni. Quanto è forte il vostro stomaco? Spero abbastanza perché ci sono cose da mangiare su questo pianeta che potrebbero sconvolgervi davvero tanto. O almeno a me è successo. In Arizona per esempio ci sono dei lecca lecca 100% gusto scorpione. I gusti sono vari ma gli scorpioni sono sempre quelli, non potendone prendere di troppo velenosi. E' una domanda ovviamente sorge spontanea. Perché? Cos'è successo all'umanità? E poi, sono davvero buoni? Se ne avete assaggiato uno fatemelo sapere nei commenti assolutamente. Con questo concludiamo. Di souvenir strani nel mondo ce ne sono ancora moltissimi. Se volete un altro video del genere mettete un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.